Un migliaio di persone alla fiaccolata anticrisi. Compensazione debiti e crediti, non bastano le dichiarazioni del Vice Ministro, bisogna agire. Registrazione di marchi e brevetti, agevolazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico. Salute e sicurezza sul lavoro. Il 30 maggio, seminario di Confartigianato. Bentornati al consueto appuntamento con il telegiornale di Confartigianato Pordenone. Un migliaio di persone, tra imprenditori artigiani e del commercio, ma anche dipendenti, collaboratori e cittadini, hanno partecipato alla fiaccolata silenziosa anticrisi, organizzata da Confartigianato Pordenone e Confcommercio. L'appuntamento era in Piazza del Popolo, per affidare al vento migliaia di palloncini con il grido di aiuto dei piccoli imprenditori, del commercio e dell'artigianato, e ritirare le fiaccole. A presentarsi all'appuntamento oltre un migliaio di persone, che hanno condiviso la preoccupazione per la grave situazione in cui versa il mondo imprenditoriale, schiacciato da una crisi che non lascia intravedere spiragli di uscita, e da provvedimenti del governo che gravano sulle aziende, appesantendo una pressione fiscale già insostenibile. Con le torci accese, il corteo ha sfilato in silenzio per le vie di Pordenone, fino a raggiungere la loggia del municipio, dove è stato allestito il palco, dal quale i presidenti di Confartigianato Silvano Pascolo e Confcommercio Alberto Marchiori hanno spiegato le ragioni dell'iniziativa. Una fiaccolata per accendere le luci delle nostre attività economiche, per evitare che sempre più spesso chiudano per crisi o a causa del fisco e degli adempimenti asfissianti che mortificano il fare impresa. Ma senza le imprese, hanno ricordato Pascolo e Marchiori, non c'è nulla, né lavoro, né ricchezza, né benessere. Forte la richiesta al governo, affinché varie iniziative a sostegno della crescita, dopo aver approvato misure che hanno inasprito la pressione fiscale. Non siamo noi i parassiti, hanno ribadito. Parassita è chi timbra il cartellino e poi va a fare la spesa. Parassita è chi usa il denaro dei rimborsi elettorali a fini personali. Parassita è il colluso, il mafioso. Non certo gli imprenditori che lavorano 12 ore al giorno per 7 giorni a settimana. Infine l'appello alla politica, quella vera, e ai politici galantuomini, che ancora esistono, affinché affacciano sentire la propria voce. Chiediamo di dare luce alle imprese, speranza ai giovani e una vita dignitosa ai nostri anziani. Chiediamo, hanno concluso Pascolo e Marchiori, di riformare radicalmente questo paese e di tagliare gli sprechi, quelli veri. Senza imprese, hanno ribadito, non c'è alcuna possibilità di creare occupazione, aumentare le entrate e ridurre il debito pubblico. E la lunghezza e la profondità della crisi rendono ogni giorno più pesanti le difficoltà che gravano sulle imprese. Le dichiarazioni del Vice Ministro all'Economia Vittorio Grilli sul tema urgente della compensazione crediti-debiti vanno registrate con soddisfazione, in quanto danno finalmente attuazione alla previsione del Decreto 78-2010, contribuendo a risolvere quella che è diventata una vera e propria emergenza per le imprese. Dopo aver proposto con forza questo intervento, ci attendiamo ora chiarezza nelle scelte e nell'immediato rapidità di attuazione del provvedimento e la posizione del Presidente di Confartigianato Pordenone Silvano Pascolo dopo le dichiarazioni del Vice Ministro in relazione alla proposta avanzata dalla Confederazione dell'Artigianato con le altre categorie economiche. La compensazione, rimarca Pascolo, deve valere per tutti i crediti vantati dalle imprese e per tutti i debiti tributari e non soltanto per le somme iscritte a ruolo. È fondamentale dare un segnale forte e tempestivo per venire incontro a un crescente disagio degli imprenditori e per favorire una maggiore serenità nel rapporto tra fisco e contribuenti. La Camera di Commercio di Pordenone rende noto che la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico grazie ad una convenzione con Union Camere ha pubblicato un bando per la concessione di agevolazioni per la registrazione di marchi comunitari e internazionali a favore delle micro, piccole e medie imprese. Esso prevede per le imprese che abbiano depositato successivamente al 7 maggio domanda di registrazione di un marchio comunitario presso l'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno un'agevolazione pari all'80% delle spese sostenute fino a un massimo di 4.000 euro per ciascuna domanda depositata e fino a un massimo di 15.000 euro per l'impresa. Simile agevolazione è prevista anche per le imprese che abbiano registrato un marchio internazionale. Le domande possono essere presentate a partire dal 120esimo giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione relativa al bando sulla gazzetta ufficiale e sino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse saranno segnate con procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Gli uffici di confartigianato sono a disposizione per consulenza e assistenza. E sono in vigore le nuove disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardano in particolare gli obblighi nel campo della formazione del personale e si applicano a tutte le attività e alle imprese che occupano ma almeno un lavoratore, sia esso dipendente, socio o collaboratore. Il 30 giugno poi scadranno le autocertificazioni della valutazione dei rischi. Per chiarire meglio i nuovi adempimenti inerenti sia alla formazione che le autocertificazioni confartigianato Pordenone in collaborazione con l'ESMAPS, l'ente scuola maestranze edili, prevenzione e sicurezza e con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia e della Camera di Commercio di Pordenone ha organizzato un incontro in programma il 30 maggio alle ore 18 presso il Consorzio Universitario di Pordenone. La partecipazione al seminario è gratuita ma è richiesta l'iscrizione che è possibile effettuare presso gli uffici di confartigianato Pordenone. Ed è tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito e a risentirci la prossima settimana. Arrivederci! Grazie per aver guardato il video!